Nicola Pastò, attaccante dell'Ururi, dunque arriva una sconfitta in finale contro il commensario Verano il ramarico più grande forse non l'avete giocato al massimo e proprio sulla testa è capitata un'occasione d'oro poteva cambiare la partita Sì, infatti con quel colpo di testa se sarebbe entrato sicuramente credo che sarebbe cambiata la partita però dobbiamo dire in ogni caso che loro sono una bella squadra, hanno giocato bene a noi ci è mancato qualcuno, due o tre elementi, però ci sta, è una finale dove te la giochi e ci sta può andare anche così, complimenti a loro, ci rivedremo tra qualche giorno per l'altra finalistima con loro Come diceva il vostro mister Nicola, l'obiettivo comunque era, l'avete già centrato, vincere il Girone C di prima categoria andare in promozione, un campionato, tutto un altro campionato, difficile, su campi anche non facili come ci arriva questo Ururi e questo campionato, come ci si affaccia questo Ururi a questo campionato di promozione? Con l'esperienza giusta perché abbiamo fatto già diversi, qualche anno fa, la promozione, l'eccellenza quindi diciamo così abbiamo quell'esperienza per affrontare una campionata di promozione lo faremo credo alla grande A livello personale invece ti ritieni soddisfatto di quello che hai dato a questa squadra, i tuoi gol comunque le hai sempre fatti e l'anno prossimo speri di farle ancora? Sì, sono... Domanda che sembra che ovviamente sarei ancora qui Sono soddisfatto, credo di chiuderla quest'anno qui qualche anno in più di loro ce l'ho e allora... Scoop di mercato Scoop di mercato, sì, credo di chiuderla qui farò sempre parte del sistema però soddisfatto, sì sono soddisfatto Bisogna far crescere i ragazzi di Ururi perché sono ottimi elementi come si è visto anche in questa partita e ovviamente come ha detto il mister con l'aggiunta di qualche giocatore esperienza perché in promozione gli under contano ma contano anche i giocatori forti possiamo dire Sì, infatti abbiamo diversi giocatori bravi di Ururi con il nesto dei giocatori di Termoli e di Santa Croce e di Larino come oggi appunto c'è mancato Marsilio è una bella squadra, qualche innesto credo di poter... possiamo figurare anche in promozione